Presidente Sibilla, intanto un piacere rivederla a distanza di qualche mese, un traguardo prestigioso e importante i 60 anni della Lega Nazionale di Lettanti. A pensarci bene, lei era appena nato. Infatti abbiamo la stessa data di nascita, anno di nascita, quella del 1959. Motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, festeggiare i 60 anni della Lega di Lettanti. Quindi è solo l'inizio, perché poi nello sport, nel calcio bisogna sempre migliorarsi e quindi raggiungeremo nuovi obiettivi. Poi tra l'altro qui in Abruzzo c'è un humus importante, il centro federale che avete inaugurato, Silvi, insomma ci sono tanti presupposti davvero per fare molto bene. È una di quelle regioni che ci sta dando delle soddisfazioni. Abbiamo da poco inaugurato il centro federale di Silvi Marina, oggi siamo qui per festeggiare i 60 anni della Lega di Lettanti. Abbiamo trovato sempre grande solidarietà e vicinanza e siamo contenti di questo. Le priorità, Presidente, così a 360 gradi, riforma dei campionati e riforma della giustizia sportiva? Il primo punto è quello riguardante la giustizia sportiva. Noi abbiamo vissuto un'estate difficile, abbiamo vissuto un'estate complicata. Noi eravamo nel mese di ottobre e non conoscevamo le partecipanti al campionato di Serie B e quelle al campionato di Serie C. E quindi col Presidente Gravina, l'abbiamo nel programma, dobbiamo rivisitare le norme che riguardano la giustizia sportiva. Dobbiamo dare tempi certi e non dobbiamo più avere una stagione come quella che è una stagione calcistica che è appena iniziata, che ci ha portato ad avere dei condensiosi. Ci batteremo molto per questo, ma mi pare che i primi passi siano stati passi molto concreti e direi anche obiettivamente positivi. E poi il caso recentissimo del proprio Acenza, una brutta pagina. Una pagina brutta per tutto il nostro mondo che non deve più verificarsi. Però questo non dipende dal neoeletto Consiglio federale né da tutti quanti noi. Dipende da chi è stato protagonista di una gestione commissariale che ha portato solo problemi. Io l'ho detto in assemblea, quindi non ho difficoltà a ripeterlo. È stata una gestione commissariale negativa che ha portato enormi danni al nostro sistema calcistico. Noi siamo convinti che anche con tante difficoltà la Federcalcio ha dall'interno le capacità, gli anticorpi, per raggiungere gli obiettivi ai quali facevo riferimento prima. Voi incentivate l'impiego e l'utilizzo dei giovani, mi sembra una cosa fondamentale da cui ripartire. A me sta molto a cuore questo tema perché molti allenatori per esempio dicono sì i giovani purché siano bravi a prescindere dall'età. Qual è la risposta del Presidente? La risposta è che io dopo l'eliminazione dai mondiali dell'Italia più volte ho sostenuto in privato e in pubblico perché poi quando ci vediamo tra dirigenti federali ne discutiamo spesso che noi per riportare l'Italia ad essere protagonista in campo internazionale con la propria nazionale abbiamo necessità di partire dal calcio di base, di partire dai centri federali attrezzati e quindi credo che si stia percorrendo una strada giusta. Anche l'allenatore della nazionale sta investendo molto sui giovani e di questo abbiamo preso atto con soddisfazione. Io stesso ho proposto ai comitati regionali di, oltre ai giovani che devono come da regolamento partecipare ai campionati, in aggiunta premiamo le società che investono sui giovani quindi abbiamo messo delle risorse sul territorio proprio per incentivare la pratica sportiva in favore dei giovani. Sempre tenendo presente che bisogna sviluppare l'attività di base con tecnici competenti perché questo è il punto, c'è la formazione. Fa parte anche questa del nostro programma, noi siamo convinti che si debba qualificare non solo eccellenza, promozione ma anche prima, seconda categoria, attività giovanile. Abbiamo solo una difficoltà però su questo stiamo risolvendo che le sostanze economiche devono venire dalla Federazione Calcio perché in questo momento il calcio di base e la Lega di Lettanti hanno difficoltà di carattere economico-finanziario ciò nonostante i risultati che stiamo conseguendo sono risultati importanti. Se pensiamo per esempio alla terza categoria gratuita che abbiamo portato avanti proprio per facilitare i dirigenti di società a poter formare delle squadre di calcio. Sante Occhiuzzi, 51 anni, sarà premiato oggi e ancora in attività partecipa al campionato di prima categoria. Questo deve fungere da sprone, da esempio per i più giovani. È uno dei nostri eroi, un eroe che noi oggi premiamo e quindi è un punto di riferimento per far capire ai giovani quanto sia importante esercitare la pratica sportiva e la Lega di Lettanti su cui sta stata sempre protagonista. Quanto è legato Sibiglia a questa regione? Io ricordo che è stato presente all'Adriatico nel 1995 per quello spareggio promozione che vide protagonista l'Avellino del caro papà. Sì, molto legato a questa regione, anche perché quando mio padre era presidente dell'Avellino molti dei calciatori e degli allenatori che sono passati per Avellino venivano dall'Abruzzo. Come Bruno Pace, per esempio, compianto l'anno dopo. Gian Marinaro. Gian Marinaro, che ha vergato a pagina di tanti calciatori, oltre ai tecnici. Grazie Presidente. Grazie a lei. Presidente Ortolano, complimenti per questa giornata a 60 anni della Lega Nazionale di Lettanti. Un percorso itinerante proprio per le celebrazioni. Siamo a Silvi, centro federale inaugurato proprio a settembre. Insomma, in Abruzzo c'è tutto per promuovere l'attività di base, l'attività giovanile, il calcio in generale. Sì, il calcio di Lettantistico in generale. Ringraziamo per la scelta della sede, però se ne sono innamorati subito. Il Presidente Sibiglia e tutto l'entourage della Lega Nazionale di Lettanti. È un gioiello. È un gioiello. Hanno voluto quindi tornare qui in Abruzzo per celebrare i 60 anni della Lega Nazionale di Lettanti. È una delle cinque tappe. Eventi importanti che continuano a celebrare soprattutto le nostre società. Società di Lettantistiche che come in Abruzzo sostengono un'attività calcistica importante anche in termini di risultati, in termini di produzione di calciatori, di eventi. Ma soprattutto un impegno sociale importantissimo perché le nostre società sono con l'attività giovanile e le società che continuano a formare non solo calciatori ma cittadini attraverso le nostre regole, il rispetto delle regole e soprattutto continuano a sostenere nei piccoli paesi, nei piccoli centri un'attività sportiva, una società sportiva che diventa un momento creativo importante nell'ambito anche proprio dell'identità del territorio, nell'identità con le piccole comunità.